buongiorno buon lunedì mattina buon inizio di settimana a tutti voi come di consueto a quest'ora c'è la rassegna stampa occhio ai giornali sfoglieremo insieme le edizioni di oggi di corriere messaggero il resto del carlino però prima di fare questo come sempre procediamo con ordine vediamo l'almanacco del giorno oggi lunedì 19 di ottobre san paolo della croce sacerdote il sole è sorto da pochissimi minuti 7 e 25 e tramonterà alle 18 e 21 guardiamo le previsioni del tempo iniziamo partiamo dalla postazione meteo qui di fano tv che è tra l'altro è presente anche nel nostro sito la potete consultare in qualsiasi momento della giornata voi lo ritorniate opportuno in questo momento ci rimanda un dato di temperatura al suolo di 13 gradi e mezzo e un'umidità del 96 per cento vedete anche la pioggia segnalata nel la nostra centralina pioggia moderata 18,4 mm di pioggia in questa giornata la foto della webcam è notte fonda ancora qui vedete proprio quella scattata dalla nostra webcam notte fonda però fra un poco appunto ritornerà e ritornerà insomma la luce del giorno e vediamo quello che ci dice la protezione civile per oggi il sito della protezione civile Marche vedete pioggia anche sulla costa e sull'interno soltanto il settore meridionale della regione presenta qualche simbologia richiamante il sole molto nuvoloso specialmente durante la prima parte della giornata precipitazioni diffuse appunto durante le prime ore della mattinata esaurimento però di questa fenomenologia nelle ore centrali della giornata ci saranno anche localmente caratteri di rovescio di queste precipitazioni per domani martedì il cielo è nuvoloso con umbi basse che potranno dare luogo anche a nebbie diffuse in particolare sui settori collinari fondo valle soprattutto nelle ore nelle prime ore del mattino e quindi attenzione a questo fenomeno chi si sposta al mattino presto per recarsi al lavoro o comunque si utilizza le strade e le precipitazioni non si escludono locali piovaschi però vedete la simbologia non è presente quindi insomma domani perlomeno insomma almeno sul fronte della pioggia ci sarà una pausa guardiamo insomma le pagine dei giornali che come tutti i lunedì hanno una fogliazione un po ridotta partiamo dall'episodio di cronaca che è presente in tutte le testate una lite per sedare una lite ci rimette insomma quasi la vita è un ragazzo di gabice colpisce con una bottiglia l'amico perché i due si conoscevano si conoscevano molto bene colpevole questa persona di aver fermato un litigio tra due ragazzi che stavano insieme insomma un uomo e una donna che erano tra l'altro anche questi conosciuti da dal ferito arrestato un 25 anni di gabice con l'accusa di tentato omicidio ha rischiato appunto di morire per aver difeso la fidanzata insomma dal dal suo fidanzato mentre la stava picchiando si chiama gianluca pavone di 26 anni è originario dittore del greco ma risiede a gabice ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di rimini con serie conseguenze ferite al volto e al collo insomma procurate da una bottiglia rotta che l'aggressore si è procurato lì per terra e una di queste ferite ha rischiato di recidergli la giugolare quindi insomma ha rischiato di morire dissanguato però il pronto intervento del 118 e poi subito i carabinieri si sono insomma sono arrivati sul posto prontamente il 118 si è reso conto delle gravi condizioni del ferito lo hanno trasportato all'ospedale infermi di rimini e adesso anche se la prognosi è riservata però non è in fin di vita è arrestato appunto daniele e binotti di 25 anni anche lui di gabice con precedenti per droga e minacce e lesioni la ritroveremo anche in altre testate questa notizia vi faccio vedere in fondo questa pagina c'è appunto il fratello del ferito che parla dice Gianluca è fuori pericolo però ora ci sono timori per le conseguenze al volto perché insomma il volto è stato abbastanza deturpato almeno qui nell'articolo si legge così devastato dai colpi inferti con questa bottiglia rotta però insomma è fuori pericolo 4 ore appunto è stato lungo l'intervento però perlomeno non ha rischiato di morire ancora un po' di cronaca pentola va sul fuoco paura fumo dalla finestra i pompieri sventano il pericolo siamo sempre a pesaro ritardi per l'autobotte nell'imboccare via giusti un furgone la bloccava e quindi insomma un intervento un po' difficoltoso per i vigili del fuoco però è andato a buon fine ancora dalle pagine del resto del carlino rimaniamo a pesaro e provincia dura la battaglia del san decenzio si parla dell'estensione del parcheggio l'opposizione protesta la minoranza protesta l'accordo non presenta criteri di chiarezza dura battaglia sul san decenzio il parcheggio torni a spese del privato dall'asta di siamo pesaro passeranno anni prima di avere l'opera il comune deve vendere prima di farla Bettini di forza italia la delibera va rinviata molti termini sono cambiati l'atto deve essere ridiscusso vedete nella cartina l'area interessata appunto da questo parcheggio e ancora cronaca ci spostiamo a cesena ma riguarda un fatto una rapina che ha coinvolto un vigilantes fanese due rapinatori gli bucano la gomma e gli strappano i gioielli per 100.000 euro lui era andato a recuperare dei gioielli una guaria giurata della secur pol per un antiquario che esponeva alla fiera di cesena gli hanno fatto appunto un agguato c'è stato addirittura anche un conflitto a fuoco lui è illeso e anche i banditi quindi non ci sono stati feriti però si sono impossessati della refurtiva a pergola ieri l'ultimo pienone alla fiera del tartufo bianco vedete il sindaco baldelli soddisfatto di questa performance della fiera internazionale del tartufo bianco pregiato e messaggero messaggero di pesero apre con la cittadella dello sport una cittadella per lo sport il titolo scongiurata un'incompiuta per il e per piscina e campo a scuola villa san martino a giugno 2016 inaugurazione dell'impianto del pentatron ma senza sale da scherma la scherma ancora non usufruisce di questo impianto nella foto non in foto notizia in fin di vita per una ragazza vedete i due litiganti questo è l'aggressore questo è il ragazzo ferito e poi paura per sei escursionisti bloccati nella grotta fredda è successo ad acqua santa terme tra loro ci sono anche tre pesaresi ecco qui l'impianto cittadella dello sport la scommessa di villa san martino si riqualifica l'area del campo scuola e riparte il cantiere per la realizzazione della piscina legata al pentatron e quindi insomma buone notizie per gli sportivi in fin di vita come vi dicevo questa notizia che è un po il fil rouge di oggi in fin di vita per difendere una ragazza praticamente lui è uscito dal locale ha visto i due ragazzi litigare animatamente fuori nel parcheggio della discoteca siccome li conosceva ha cercato di sedare questa lite con tutto il risultato invece di far imbestialire ancora di più l'altro ragazzo il quale dopo aver rifilato due sonori cioffoni alla ragazza se le presa con lui insomma con le conseguenze che avete letto appunto nei titoli e quindi gianluca pavone di 26 anni di gabrice è stato raggiunto al collo con un coccio di bottiglia fuori da un locale di misano adriatica qui nella fotina vedete anche il momento dell'arresto del del binotti il quale poi aveva fatto pochissima strada perché si era nascosto accovacciato dietro un'auto parcheggiata lì poco distante proprio probabilmente in attesa che le acque si calmassero e fuggire invece è stato arrestato e ammanettato dai carabinieri cambiamo testata anche qui diciamo il corriere adriatico apre con questo fatto ferito la gola per difendere una ragazza le dichiarazioni del dell'aggressore ho fatto una cavolata farfugliato solo queste poche parole ai carabinieri che lo arrestavano ho perso gli ho perso la testa e sono partiti gli accertamenti da pesore provincia il corriere adriatico siamo a cagli in difesa di dell'ospedale di cagli una levata di scudi di sei sindaci appunto in difesa dell'ospedale giovedì in commissione regionale la proposta di archiviare il progetto di casa della salute e quindi insomma sindaci del territorio vogliono invece un ospedale vero e proprio che serva il territorio circostante siamo invece a fossombrone per una notizia di stampo ecologico raccolti 180 kg di rifiuti la città pulita è un'iniziativa insomma di cittadini puliamo la nostra fossombrone un'iniziativa di grande successo perché vedete hanno raccolto ben 180 kg di rifiuti e poi sempre da fossombrone vi evidenzio quest'altra notizia stop alle notti al buio dal 2016 torna l'illuminazione pubblica deliberata la riattivazione con il programma alternato di un lampione acceso e un lampione spento quindi uno sì e uno no dalle 23 alle 5.30 del mattino vi faccio vedere l'ultima pagina che riguarda la cronaca insomma le pagine non di sport per quanto riguarda fano sapori e aromi d'autunno un'iniziativa riconfermata decisione nell'ambito dell'assemblea annuale dell'associazione di cultura enogastronomica quindi una manifestazione che apre un po' tutte le manifestazioni autunnali qui a Fano e insomma che ha riscosso sempre grande successo tutte le volte che si è presentata insomma quindi è riconfermata anche quest'anno tre stanze per coordinare le emergenze sarà allestito in zona al Codma Centro operativo comunale Paolini e Giangolini i responsabili quindi pronto intervento di protezione civile chiudiamo essendo lunedì con la pagina dello sport in particolare con il calcio che riguarda le due squadre locali Fano e Pesaro vediamo come è andata malino per tutte e due vis Colabrodo a Teramo i Biancorossi infilati tre volte in 46 minuti quindi finisce San Nicolò 3 vis Pesaro 1 errori gravi in difesa si salva solo la Briola per quanto riguarda il Fano il derby con la Iesina è andato male un'altra sconfitta per i Granata e appunto la Iesina è spietata contro il Fano il derby si decide in 10 minuti quindi Iesina 2 Alma Fano 0 ma stasera insomma vedremo più approfonditamente come è andata per questa edizione del lunedì della Rassegna Stampa è tutto grazie per essere stati in nostra compagnia buon proseguimento di giornata Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti